Perché siate adatti Come strumenti di Dio Non vi serve soltanto aspirazione Ma la guida, il raffinamento Delle sue parole Il suo trattamento è illuminazione A ciò aggiungete osservazioni Pensieri, riflessioni E le vostre conclusioni Ciò che assimilate Lo eliminate Praticate tutto su quelle basi Sono tutti percorsi Per il vostro ingresso Il vostro ingresso nella realtà Sono tutti quanti indispensabili Questo è il modo in cui davvero opera Dio Perché siate adatti Come strumenti di Dio Non vi serve soltanto aspirazione Ma la guida, il raffinamento Delle sue parole Il suo trattamento è illuminazione Se ti unisci al cammino Dell'opera di Dio Puoi essere perfezionato ogni giorno In ogni tempo In ogni condizione Sia che tu sia tentato Messo alla prova Sia che tu viva da solo O in un gruppo Troverai sempre occasioni Di essere perfezionato Non mancarle Scoprile tutte Ecco come vivere il segreto Della parola di Dio Perché siate adatti Come strumenti di Dio Non vi serve soltanto Aspirazione Ma la guida Il raffinamento Delle sue parole Il suo trattamento è illuminazione Il suo trattamento è illuminazione Il suo trattamento è illuminazione